Lamborghini Ferrari Bello Il posto Ferrari fa paura Spettacolo E' un'altra scatola E' un'altra scatola E' un'altra scatola Purtroppo Fabio Mancini non è in giro, è anticipata la sfida tra Bevo Gini, che è il campione italiano della montagna, con la sua vera rivoluzione. E' uscito dalla curva opposta del re dei figli in modo molto spettacolare, ha perso la frazione del campione. Il vantaggio di 6 mezzi su gli altri più agevoli. Il vantaggio di 6 mezzi su gli altri più agevoli. Rispetto alla maggior potenza della Uratan, il secondo giro con le ferrocini che si conferma 25,84 contro 25,90. Il vantaggio di 6 mezzi su gli altri più agevoli e il punto di vista di 6 mezzi su gli altri. ha bisogno di recuperare sempre l'aggianto adesso nella rezza principale l'aggianto è un campionato 458, 24, 35 per Piaggi 29, 86 per Terugini è partito dalla parte rispettare le macchine il momento determinato dal giro numero 8 il momento numero 8 condizione di questa cosa Viaggi 2504, 26 per l'avventura Gran Turismo, Perugini 25, 06 quindi spida pari tra Viaggi e Perugini Perugini all'indicola Grazie a tutti